Noi parliamo di un tema che credo soltanto negli ultimi tempi abbia un po' affannosamente bussato alle porte di chi si occupa di acquisti perché finora è stato un tema di cui si occupava il responsabile della comunicazione, il direttore marketing, di solito anche l'amministratore delegato ma il direttore acquisti no. Invece oggi la responsabilità che avete voi, mi rivolgo a voi perché so che siete irresponsabili all'interno delle proprie aziende della catena di fornitura è una responsabilità altissima sulla quale spesso si gioca la reputazione delle vostre aziende dei brand che rappresentate e quindi io credo personalmente anche dall'esperienza che ho maturato in questo settore che oggi forse addirittura il ruolo più importante all'interno dell'azienda su queste questioni lo gioca proprio il direttore acquisti ancora di più forse del direttore della comunicazione. Allora noi oggi analizziamo un caso che è un caso esemplare, è un caso dell'industria del tessile ed è un caso molto particolare che fa riferimento a due episodi che hanno riguardato e impattato moltissimo sull'industria, sulla filiera del tessile a livello mondiale. Uno riguarda il tema della sicurezza dei lavoratori, cioè entrambi riguardano il tema della sicurezza dei lavoratori, uno è recentissimo ed è questo che voi vedete sulla slide che sto proiettando, partiamo da lì e l'altro riguarda un aspetto legato sempre alla salute dei lavoratori di qualche anno fa di cui però ancora si parla. La chiave, lo dico diciamo in anticipo perché poi dopo alla fine dell'intervento le conclusioni arriveranno là, la chiave di lettura di questo fenomeno ovviamente non è una chiave colpevolizzante, io per professione lavoro a fianco delle imprese, non è una chiave colpevolizzante nella misura in cui però noi dobbiamo, e questo è il messaggio che vi voglio portare, stare attenti a quello che sta succedendo nell'ambiente intorno a noi. Voi dovete stare attenti a quello che sta accadendo perché negli ultimi anni le cose sono cambiate completamente e oggi quello di cui parliamo che è la rete, internet e il web, le opinioni che nascono nella rete e che vanno ad influenzare in generale i media, i consumatori e vanno a intaccare profondamente anche la reputazione delle aziende sono una cosa di cui non si può più fare a meno, vanno capite, vanno ascoltate, vanno esaminate, vanno comprese, vanno tenute in considerazione. Vanno tenute in considerazione ancora di più se un'azienda intraprende per mission, per vocazione, per una serie di considerazioni di policy e di strategia aziendale decise dal vertice, un percorso di sostenibilità che può essere sostenibilità ambientale o può essere sostenibilità sociale o responsabilità sociale che dir si voglia, fondamentalmente i due concetti si fondono e che quindi impone all'azienda di essere molto più attenta se vogliamo rispetto alle altre, a queste tematiche, ad aprirsi alle istanze degli stakeholder che ha intorno, quindi dei soggetti che si interfacciano con le imprese e a rendi contare rispetto a quello che fa. Diciamo che l'attenzione a questi temi è un'attenzione ormai doverosa per le imprese oggi perché non possono più nascondersi rispetto a una capacità del mondo dell'informazione per l'appunto attraverso il web che è una capacità pervasiva, velocissima e come non mai presente nella vita di tutti, di tutti i consumatori e di tutti i cittadini, non possono più tirarsi indietro perché ormai il mercato su scala globale, questo riguarda in modo particolare i grandi brand, il mercato si gioca anche sulla chiave della responsabilità sociale e della sostenibilità che sta diventando un fattore competitivo. Che cosa è successo più di un mese fa? Voi tutti lo sapete, l'avrete letto sui giornali e visto sulle televisioni e sui telegiornali, è crollata una fabbrica, una fabbrica che presentava già nei muri delle crepe, i proprietari erano stati già allertati, non avevano ovviamente fatto nulla, questa fabbrica era enorme, era nel pieno della sua attività e sotto questa fabbrica sono morte più di 1200 persone, più un certo numero che sono rimaste ferite. Tutti avete visto le immagini che sono delle immagini devastanti, io le ho inserite in questa slide non per farvi andare di traverso il pranzo che è stato ottimo ma perché da qua partiamo e da qua dobbiamo iniziare a riflettere, perché queste immagini nel giro di qualche ora, di qualche ora hanno fatto il giro del mondo, decine e poi centinaia e poi migliaia e poi milioni di persone dopo due ore dall'accaduta sapevano quello che era successo e avevano visto queste immagini, avevano visto tutte queste immagini nelle ore successive tranne l'ultima in fondo, in basso, a destra che è venuta fuori dopo un po' e da qui parte il ragionamento che noi oggi facciamo. Perché che cosa è accaduto? Si è saputo subito che questa era una fabbrica che lavorava in subappalto rispetto a una catena di fornitura che come in altri settori ma in modo particolare nell'industria testica è lunga, è articolata, è farraginosa, è difficile da controllare per qualsiasi azienda anche quella meglio attrezzata. Si sapeva subito quindi che loro lavoravano in subappalto per varie aziende, per vari marchi grandi dell'abbigliamento e qualcuno ha subito iniziato a dire dei nomi di alcune aziende e queste aziende che si sono subito sentite chiamate in causa, alcune di queste hanno subito rilasciato delle dichiarazioni. Benetton ha subito dichiarato che assolutamente quella non era un suo fornitore e che quindi con questa cosa, pur dispiacendosi perché ovviamente uno non può, chiunque rimane colpito da un fatto del genere, non si sentiva diciamo coinvolto. Che cosa è accaduto? Che dopo altre, una decina di ore, una quindicina di ore è venuta fuori quella foto lì, cioè qualcuno ha trovato tra le macerie i resti di quella che era fondamentalmente una testimonianza che quella era una fabbrica che lavorava anche per conto della Benetton. Benetton scusate, è vero qua ho un Benetton, non posso, accipicchia, 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 pardon. E insomma che cosa è accaduto? Voi potete immaginare in quel punto che cosa accade a voi stessi, voi immaginate il direttore acquisti di questa azienda e in che situazione si è trovato in quel momento. Allora è stato fatto tutto il controllo della filiera, non ci sono delle certificazioni, che tipo di documentazione abbiamo, dichiariamo o non dichiariamo, il caos più totale. Dopo qualche giorno la cosa si è cominciata a chiarire e c'è stata poi una dichiarazione dell'amministrato delegato che poi vedremo insieme. Ma che cosa è accaduto? Che cosa è stata l'elemento deflagrante di questa che non è che l'ultima di una lunghissima serie di episodi, di incidenti che ci sono stati sempre, soprattutto nelle fabbriche dei paesi che lavorano in questa industria globale, sempre più internazionalizzata, è che forse l'entità della tragedia è forse un sistema dell'informazione che mai come ora è così veloce e pervasivo, perché questa cosa, quanto avviene oggi, non accadeva due anni fa, non accadeva cinque anni fa, dieci anni fa. Oggi è cambiato tutto e oggi gli opinionisti a livello internazionale e ne sono, diciamo, emersi tantissimi che hanno fatto dei post, che hanno scritto degli articoli, che hanno commentato questo tema in tutto il mondo. Oggi l'opinione generale è che con questo evento che è accaduto nulla sarà mai più come prima e quelle che prima, questo vi riporto una testimonianza, potevano essere o sembrare soltanto dei timidi accenni a una policy di responsabilità sociale che a volte spesso le aziende erano costrette a fare per la spinta della concorrenza, per la spinta del settore, per l'amministratore delegato che doveva a tutti i costi trovare una collocazione, un posizionamento. Oggi invece queste robe qui diventano indispensabili per sopravvivere, perché un marchio che viene messo, perdonate, alla berlina, da una situazione di questo tipo, da una smentita con milioni, milioni di consumatori e di clienti in giro per il mondo che non sono mappabili perché i grandi marchi hanno, come dire, hanno un grandissimo valore ma hanno anche una grandissima vulnerabilità che i loro clienti sono tutti a nessuno. Sono così esposti da una situazione di questo tipo che i danni sono incalcolabili nel momento in cui il consumatore decide di non acquistare più quel prodotto. No, io non acquisto più la maglietta della Benetton perché loro mi hanno detto il falso. Io vado a comprare la maglietta in un altro negozio. I danni sono incalcolabili, i danni materiali e i danni di reputazione che sono intangible, ma che forse per le aziende quotate in borsa, per le aziende che hanno veramente un mercato globale sono incalcolabili. Tra l'altro su questi temi la stampa si è scatenata, si è scatenata in un modo molto molto diretto. Ciò che fino a qualche anno fa si diceva e non si diceva, i giornalisti sapevano e non sapevano, oggi invece lo dicono in modo diretto. Oggi il problema della catena di fornitura e della difficoltà anche che l'azienda ha di controllarla è chiaro a tutti. Il processo di delocalizzazione e di internazionalizzazione che è in corso anche per effetto della crisi lo spinge ancora di più e spinge ancora di più se vogliamo i giornalisti, i media ad interessarsene. Che cosa succede poi? Che ci sono all'interno della rete, all'interno della società civile, ci sono delle forme anche organizzate. Quindi il dissenso o delle posizioni che possono essere, perdonate il termine, sbrindellate, parcellizzate all'interno del web, all'interno della rete si coalizzano, si accadono dei fenomeni di agglomerazione e questo è uno di questi. Questa campagna che voi vedete, la campagna Ability Puliti, è una campagna internazionale che poi ha delle declinazioni a livello nazionale, è una campagna che dura già da diversi anni, che ha affrontato diversi aspetti diciamo critici della filiera del tessile e in modo particolare dopo l'incidente in Bangladesh ha coalizzato tantissima attenzione sul web rispetto a questi temi. Questo è quello che voi vedete, è quello che io ho preso da internet e che chiunque può prendere da internet, chiunque significa qualsiasi giornalista, qualsiasi consumatore, qualsiasi opinionista e qualsiasi anche decisore politico istituzionale. Questa è una cosa che voi vedete che è la famosa foto che ha fatto il giro del mondo, credo che sia una delle foto più cliccate degli ultimi mesi, che riporta per esempio la dichiarazione che è stata fatta dopo qualche giorno, perché è normale, perché l'azienda prima di fare una dichiarazione di questo tipo deve capire, deve analizzare, deve consultare i propri avvocati e in tutto questo tempo però che il tempo fisiologico di un'azienda e il tempo fisiologico in cui voi magari alle tre di notte venite chiamate dall'amministratore delegato, venga subito qui che c'è una riunione d'emergenza eccetera, in tutto questo tempo il web va avanti e milioni di persone leggono, scrivono, postano sui social network, si informano, vanno a vedere le agenzie. Prima l'informazione se ci pensate fino a qualche anno fa bisognava aspettare la mattina dopo e andarsi a comprare il giornale e non era detto che il giornale riportasse l'articolo. Oggi immediatamente appena accade qualche cosa io clicco un pulsante, vado sul web e vedo la stampa e le agenzie di stampa e anche i blog di tutto il mondo. Capite la rivoluzione che cosa? È questa, i tempi non coincidono più. Questa è la dichiarazione, mi spiace che è piccolo il carattere, quindi non so se riuscirete a leggere ma ve l'ho voluta riportare per intero, è la dichiarazione che è uscita qualche giorno dopo da parte dell'amministratore delegato di Benetton che ha fatto molto bene, che in modo molto trasparente ha detto esattamente le cose come stavano, che tra l'altro si è impegnato anche a fare dei progetti per aiutare, diciamo per migliorare le condizioni di lavoro in quei paesi, per controllare maggiormente la catena di fornitura, ma io per trovare questa dichiarazione sul sito di Benetton, io che so navigare e le so trovare le cose, ci ho messo 7-8 minuti. Perché? Perché oggi ancora l'impresa non ha capito che su queste cose bisogna invece tirar fuori il coraggio, bisogna affrontarle immediatamente con la stessa velocità con cui esse maturano alle nostre spalle dietro di noi, in modo coraggioso e farle diventare dei cavalli di battaglia subito, immediatamente schiaffatela in home page, mandate un comunicato stampa ovunque, mettetela fissa nei vostri punti vendita se qualcuno di voi ce l'ha, invece no, era nascosta, era nascosta dentro una cartella, dentro una pagina, dentro un'altra pagina e ho fatto fatica a trovarla. Il risultato qual è? E che voi, se voi adesso con i vostri iPad andate su internet e cliccate Bangladesh più Benetton, non la trovate questa dichiarazione o fate fatica a trovarla, non vi salta subito all'occhio. E invece no, e questa informazione va governata. Non è solo Benetton che è stata presa un po' in contropiede e anche messa un po' sul banco degli imputati da questa cosa che è accaduto. Un altro caso è quello di Accendem, molti di voi, soprattutto chi ha figli, adolescenti, conosce questa catena che è nota proprio per la pervasività dei punti vendita e per il fatto che ha molte cose, molti prodotti a bassissimo costo, che vengono realizzati proprio in quei paesi là. La loro pagina internet, scusate, la loro pagina Facebook è stata letteralmente inondata da messaggi di protesta e considerate che loro hanno una fascia di fan, si chiamano così per chi ha un po' abitudine a frequentare i social network, è una fascia bassissima d'età. Per cui chi va sulla pagina Facebook di Accendem è il consumatore di Accendem, è il ragazzo che poi va a comprare, è il loro cliente e i loro clienti li hanno inondati di reclami rispetto a questa cosa che era successa. C'è stata addirittura una petizione, perché oggi poi sul web, lo vedremo, c'è un caso in modo particolare, nascono, sorgono in modo spontaneo, quindi spontaneamente organizzati, organizzato, lasciatemelo dire, anche fenomeni di petizione. Basta un click, questa frase che avrete sentito anche in passato, ci avevano fatto anche uno spot pubblicitario, oggi si ribalta. Il basta un click è che io, cittadino, sono colpito da questa cosa che è accaduta, ho visto tre immagini, ho visto un servizio alla televisione, ho letto distrattamente un post di un mio amico su Facebook che mi ha messo questa foto, una di quelle che abbiamo visto, mi arriva su Facebook o in qualsiasi altro modo un richiamo, un invito a firmare la petizione, in un secondo e mezzo io vado e firmo. È immediata la cosa. Giusta, non giusta, sono fenomeni, come dire, impazziti. Qui abbiamo uno psicologo, questo mi piacerebbe anche capire che cosa pensano, no? Altri professionisti. Forse sì, forse sì, però è così. Allora, quando un'azienda nel giro di pochissimo riceve 900.000 firme, 900.000 firme, è evidente che non può più non fare nulla. Allora, ed è il succo del mio intervento, se questi aspetti invece di affrontarli nel momento in cui purtroppo il problema è esploso, lì si affronta prima con una policy ed è possibile farlo che consente di ridurre i rischi, di pianificare una serie di azioni, anche eventualmente di investimenti, quindi con il tempo che l'azienda ha per farli passare al suo interno, farli digerire anche degli investimenti, all'interno di una policy di responsabilità, di sostenibilità che può essere comunicata e quindi diventa anche un cavallo di battaglia e un elemento di competitività, capite che la cosa cambia. Un altro esempio che riguarda H&M, questa AVAZ che è un'organizzazione che quindi sforna petizioni, ha predisposto questa pagina, è una pagina pubblicitaria, ha chiesto al principale quotidiano economico finanziario svedese di pubblicarla a pagamento, loro si sono rifiutati e questi che cosa hanno detto? Ah sì, voi vi rifiutati e adesso inonderemo internet e il web è stato letteralmente inondato da questa pagina e ha avuto molto più visibilità così che non sul quotidiano finanziario svedese che come no, insomma la Svezia è piccola per cui vuol dire non è, no, non sono gli Stati Uniti. Questo per far capire che oggi, oggi, chi detiene il potere in termini di influenza del mondo dell'informazione non sono più i quotidiani, è internet. Questo abbiamo avuto degli esempi lampanti anche in campo politico sia a livello nazionale che a livello internazionale, è vero nel caso della società civile, è vero nel caso delle imprese oggi, di questa cosa bisogna fare i conti. Ci sono altri esempi di aziende che senza, prima ancora che accadesse quello che è accaduto, ma ripeto, è l'ultimo di una lunghissima serie di episodi, hanno deciso per policy, in modo proattivo, hanno deciso di affrontare la cosa in modo diverso. Disney addirittura ha deciso che in alcuni paesi non produrrà più Disney, fa merchandising moltissimo. Nike per esempio ha affrontato il tema nella logica della massima trasparenza e della massima tracciabilità. Se voi andate sul sito della Nike troverete che tutti i suoi fornitori di prima fascia, ma anche adesso stanno incominciando a farlo sui subappalti, sono tutti mappati. Questo non è interattivo questa pagina, ma sul sito lo è, per cui voi cliccate sul paese, si apre una finestra, c'è la lista dei fornitori, per ogni fornitore riportato dove stanno, quanti dipendenti hanno e man mano loro intendono ampliare la gamma di informazioni che potranno affermire, nell'ottica della massima trasparenza. Io personalmente mi occupo di queste tematiche da tanto, ritengo che questa sia una strada molto, molto intelligente, perché voi lo potete confermare, un incidente può sempre accadere, voi non avrete mai, anche facendo l'AS8000, che è la certificazione di responsabilità sociale di filiera, facendo controlli in continuazione, eccetera, non potrete mai essere sicuri al 100% che cose del genere non accadano. Allora la logica qual è, l'arma qual è? È quella della trasparenza. Io vi dico dove voglio arrivare. In natura non esiste l'incidente zero, il rischio zero, non esiste proprio fisicamente, no? Quindi io voglio arrivare a un tendente a zero, il rischio, farò di tutto per, mi apro completamente al giudizio rispetto a quello che sto facendo, vi dico quali sono i miei obiettivi, obiettivi che possono essere a un anno, a tre anni, a dieci anni, a vent'anni, ve li dico, aiutatemi, d'accordo? Quindi ovviamente l'azienda che parla al mondo che la circonda, che parla anche alle istituzioni, che parla a decisori, decisori nazionali e internazionali, perché poi ormai questi temi si giocano sui piani internazionali, non più sui singoli paesi? Parla ai suoi clienti, parla al consumatore, parla alle associazioni che sono degli influencer in questo settore, aiutatemi, datemi indicazioni, datemi indirizzi e io vi rendi conto piano piano i passaggi che voglio fare, che intendo quelli che riesco a fare, quelli su cui riesco a lavorare meglio, quelli su cui ho difficoltà. Questo è l'approccio intelligente, questo è l'approccio vincente di mercato. C'è un caso precedente che è quello della sabbiatura, dei jeans, che è una tecnica per slavarli, abbiamo tra l'altro un responsabile della diesel che avete sentito questa mattina per cui ne abbiamo anche un po' parlato prima, questa è una delle immagini che si trovano sul web, se si mette sabbiatura, sandblasting esce fuori questa immagine qua, poi vedremo, ma escono fuori tante altre cose, allora sempre nell'ottica di farvi vedere io da singolo cittadino o da attivista ambientalista o da qualsiasi altra cosa, vado su internet, questo è quello che trovo, se metto quella parola io trovo questo e cosa trovo? Questo è uno delle prime documenti che mi sono usciti fuori con una semplice ricerca di Google, trovo questo documento di un centro americano che è datato 1992 e che dice che appunto nel 1992 era già stata definita il potenziale dannoso per i lavoratori dell'esposizione non adeguatamente protetta questa tecnica di lavorazione e qua ci sono una serie di articoli che vengono fuori se voi digitate quella parola e quindi chi in quel momento si vuole informare e vuole un po' cadice, vabbè ma fammi vedere un attimo questa azienda che è la mia azienda preferita, che è il mio marchio preferito del quale non posso fare a meno, fammi un attimo vedere però che posizione ha preso, cosa fa? Va su internet, fa quello che ho fatto io e gli escono fuori degli articoli corretti, scorretti, giusti, non giusti, falsi, non falsi, non fa niente, quella è l'informazione che sta sul web e quella roba lì diventa certezza nella testa della gente e dei vostri clienti e questo ad esempio è un articolo del Telegraph del 2011, c'è citata anche Diesel come tante altre aziende digitate su Google la parola sandblasting jeans, mettete immagini, esce fuori questo, allora che cosa avete? avete foto di foto prese sul processo produttivo, foto di jeans, foto di campagne pubblicitarie, fashion victims immagine dei polmoni, questo è quello che oggi, questa è la percezione, quando si dice il cliente compra in termini emozionali, da un lato ci sono anni e anni e anni di costruzione del valore di un brand investimenti milionari per creare anche una percezione di un certo tipo di un brand, questa cosa vale per i prodotti di largo consumo, vale anche per le aziende, per l'industria e per il business to business, non cambia niente e dall'altro uno semplicemente in tre secondi va su Google, mette quella parola e gli esce fuori sta roba qui voi capite che c'è qualche cosa che è un gap che va colmato, un gap all'interno dell'azienda su Google invece di mettere immagini, mettete news e vi esce fuori questo, mettendo dentro quella parola questa è la piattaforma di cui vi parlavo, è una piattaforma che sta avendo un successo pazzesco cioè ogni settimana migliaia e migliaia di persone aderiscono ed è una piattaforma di petizioni si chiama Change perché l'obiettivo è quello di cambiare le cose e di cambiarle con un click allora se voi andate su questa piattaforma, adesso credo che non abbiamo il tempo, qui c'è un link ma non abbiamo il tempo di entrarci ma se voi lo fate autonomamente vedrete che ci sono petizioni su tutti gli argomenti alcune di più successo, altre di meno successo e chiunque può dire la sua e questo senso di partecipazione che è strano perché se voi andate a vedere i risultati elettorali non soltanto in Italia ma anche in giro per l'Europa e nel mondo la partecipazione è sempre più scarsa in termini politici ma se poi voi invece andate a vedere la partecipazione che c'è del singolo sul web è altissima e aumenta a dismisura ovviamente con la diffusione di device sempre più comodi da utilizzare con l'iPhone io ci metto due secondi a fare questa cosa qua e lo faccio mentre sono in metropolitana, mentre esco dalla doccia, mentre ascolto la radio capite il potenziale sempre parlando di prima che cosa è successo? che vuoi perché le aziende responsabilmente hanno deciso di affrontare il tema perché poi vuol dire le aziende non sono criminali voi siete le aziende, non siete criminali è evidente che nel momento in cui c'è l'evidenza perdonate il gioco di parole della dannosità di un processo, di un prodotto, di una sostanza eccetera con i tempi che l'azienda ha che spesso sono lunghi e farraginosi ma poi le cose cambiano ma anche per la pressione che è venuta dal web non era più possibile non ascoltare quello che stava accadendo e le aziende pian piano hanno iniziato a cambiare il processo a inserire degli elementi nuovi e a modificare il loro approccio e questo è l'ultimo articolo diciamo in ordine temporale della mia ricerca che è data luglio 2011 in cui appunto il titolo è anche Versace l'icona della qualità, l'icona del bello, del lusso eccetera finalmente anche Versace rinuncia alla sabbiatura e guardate che cosa scrive il Fatto Quotidiano stiamo sempre parlando del luglio del 2011 l'azienda cede alle pressioni della campagna abiti politici e del popolo di Facebook e con questo diciamo chiudo l'analisi di questo caso e rubo altri minuti sono ancora in tempo siamo fuori tempo massimo ce l'abbiamo? ok per dire che cosa l'azienda può affrontare questi temi in modo reattivo o in modo proattivo con vantaggi e svantaggi e li può affrontare per virtù diciamo così o per interesse in entrambi i casi bisogna affrontarli e allora a questo punto perché non pensarci prima fa risparmiare stress fa risparmiare soldi nella maggior parte dei casi riduce i rischi per l'azienda ma anche per i manager perché molti manager in questi casi ci rimettono anche la testa in più fa fare bella figura anche di fronte al mondo dico perché aspettare in tutti i casi bisogna cominciare a prestare attenzione e orecchio a una serie di parole che ormai stanno diventando parole magiche ascolto degli stakeholder le associazioni che fanno perdonate mi casino che vengono a bussare che mandano le lettere che postano su facebook invece di mettere dei muri dirigere dei muri no chiamatele parlateci aprite un dialogo ascoltatele perché quella è una strada positiva perché nessuna di loro io ci lavoro da 20 anni nessuna di loro si aspetta che l'azienda cambia le sue strategie industriali in una settimana lo sanno benissimo che non è possibile l'unica cosa è che loro rappresentano un'entità un gruppo di soggetti che chiede di essere ascoltato che chiede di fare la loro parte per cambiare leggermente le cose oggi la soluzione si trova nell'incontro l'incontro deve essere ovviamente un incontro civile e quando si aprono le porte a questi mondi lo diventa civile anche se prima stavano facendo le manifestazioni con i cartelli davanti alla fabbrica nel momento in cui entrano dentro l'azienda diventa tutto molto più civile e si riesce probabilmente insieme a fare un percorso a farlo meglio ad ottenere maggiore visibilità e maggiore anche risultato in termini di immagini spendendo probabilmente anche di meno analisi delle opinioni va capito quello che accade su internet bisogna entrare dentro il problema conoscerlo spenderci del tempo spendere dei soldi e mandare in giro la gente i vostri collaboratori a capire che cosa sta succedendo capire quali sono le opportunità alternative subito c'è un problema qual è il piano B e poi una cultura della responsabilità che piano piano deve entrare dentro l'azienda quello che accade su internet è una roba complessa complessissima in pochi lo sanno oggi capire se voi soltanto vedete questa mappa vi rendete conto che è un mondo talmente variegato e c'è YouTube e c'è Facebook e ci sono una miriade di altri social network e poi ci sono i blog e poi le testate online allora ci sono dei sistemi per tenere sotto controllo le opinioni che emergono dal web questi sistemi sono pochissimi le aziende ad utilizzarli e invece è fondamentale è fondamentale anche perché le regole del web sono completamente diverse da quelle che voi avete conosciuto nella vostra vita il tempo quello che dicevamo prima mentre voi siete lì che fate le riunioni con i vostri collaboratori con la mistura delegata con i legali eccetera eccetera sul web è successo un pandemonio e voi ve lo ritrovate dietro le spalle se si fanno delle false dichiarazioni ho preso l'esempio di Benetton ma insomma ce ne sono tanti altri la si paga perché il web chiede verità anche il web paga le sue false dichiarazioni perché spesso succede che le cose che vengono fuori sul web sono false lo paga anche il web e via dicendo il lavoro che va fatto per esempio con quelli che sono diciamo degli elementi all'interno della società del popolo del web per cercare anche di costruire un dialogo un lavoro lento un lavoro duro un lavoro faticoso che però le aziende piano piano devono cominciare a fare in tutto questo e stiamo parlando diciamo delle cose a valle e poi invece risalendo a monte ci sono invece tante cose dire concrete di policy che poi voi potreste essere chiamati a fare volontariamente in questo momento e forse diciamo negli anni a venire in alcuni casi anche non volontariamente per via normativa allora anche lì perché non cercare di essere proattivi perché non cercare di cogliere la palla al balzo giocandola poi facendola giocare alla vostra azienda in termini di comunicazione questa proattività e queste sono per esempio le linee guida ONU che parlano di queste tematiche chiudo perché credo che i tempi siano già stati superati la mia presentazione è qua io mi occupo di queste tematiche sia in termini profit che no profit quindi sia come azienda che come associazione Anima che è un'associazione che fa capo a un'industria però è un'associazione no profit che ha come scopo quello di divulgare i temi della responsabilità sociale delle imprese e anche a un'associazione che ha come scopo che ha come scopo che ha come scopo che ha come scopo Grazie a tutti